ok possiamo riprendere allora si torniamo bene torniamo al nostro allegato 1 principio della coerenza ve lo vedete voi coerenza interna e coerenza esterna sono due concetti facili però importanti continuità e costanza e in due parole i criteri di valutazione delle poste di bilancio devono essere tali che da mantenere una continuità nel tempo confrontabile da anno in anno se i criteri cambiano devono essere indicati negli allegati quali nuovi criteri si sono adottati nella valutazione delle poste di bilancio o delle poste di conto economico o di conto del patrimonio cioè il principio vale garantire che si possa mantenere una confrontabilità tra gli economi equilibri economico finanziari nel tempo tra i vari bilanci cioè se io vado a vedere il bilancio del comune di genova nel 2018 poi 19 poi 20 poi 21 e poi 22 e i rendiconti fino al 21 devo essere in grado di fare una confrontabilità perché non mi hanno cambiato sostanzialmente i criteri di valutazione e di costruzione del bilancio preventivo ma soprattutto del rendiconto se ciò è avvenuto occorre capire nei documenti allegati al bilancio e al rendiconto le ragioni di questo cambiamento che vanno incidere sulla continuità sulla costanza dei criteri valutativi delle posti di bilancio comparibilità e verificabilità è legato allo stesso concetto che vi ho detto prima neutralità o imparzialità è legato all'articolo 97 della costituzione pubblicità è legato alla 241 del 90 e al fatto che i bilanci i documenti contabili di previsione di rendicontazione devono essere resi pubblici ma soprattutto devono essere comprensibili perché qui dietro c'è al di là dell'obbligo di pubblicità che può essere assolto evidentemente con facilità ci deve essere poi un obbligo che abbiamo visto anche costituzionalmente stabilito e stabilito nella giurisprudenza costituzionale di comprensibilità da parte dei portatori di interesse cittadini imprese e quant'altro equilibrio di bilancio ecco arriviamo al dunque del 15 che dobbiamo leggere velocemente insieme perché sono tutti concetti che fortunatamente abbiamo già affrontato e quindi mi bloccate solo se avete bisogno di qualche chiarimento norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio l'osservanza di tali principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa vado avanti però il rispetto del principio di pareggio finanziario in vero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione quindi vedete che già il principio e quindi il legislatore mi distingue tra pareggio ed equilibrio questo pareggio e questo equilibrio si costruiscono sia in termini di competenza sia in termini di cassa introduciamo questi due concetti cos'è la competenza la competenza è il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle entrate e delle uscite relative ad ogni anno preso in considerazione dal bilancio o all'anno preso in considerazione dal rendiconto la competenza si esprime in termini di accertamenti delle entrate e impegni delle spese resi esigibili e scaduti come impareremo tra poco la cassa invece riguarda le effettive movimentazioni di incasso in entrata e di pagamento in uscita allora qui dobbiamo introdurre necessariamente ancora una volta le fasi dell'entrata le fasi dell'entrata e le fasi della spesa segnatevele bene perché poi le dovete studiare e capire bene fasi dell'entrata ve le do tutte non vi do solo le fasi che trovate nel testo unico vi do l'intero ciclo dell'entrata la programmazione la previsione che ha contenuto autorizzatorio che può essere programmatica e gestionale bilancio programmatico e bilancio di gestione piano esecutivo di gestione che poi impareremo insieme l'accertamento che la vera fase in cui l'ente diventa creditore dell'entrata iscritta in bilancio nasce il credito si perfeziona l'esigibilità attiva perché l'obbligazione attiva è perfezionata scaduta ed esigibile e quindi nasce l'accertamento in termini di sola competenza perché parlo di nascita di un credito non so ancora se quel credito sarà quando e come incassato mi fermo alla competenza poi vado alla cassa l'incasso e qui ho due fasi incasso e versamento le due fasi sono distinte se ho la figura dell'agente contabile segnate esempio io do in gestione i parcheggi della città il soggetto gestore in cassa e poi versa in tesoreria perché è un agente contabile un canone che viene pagato direttamente dall'utente dal cittadino in tesoreria le due fasi non sono distinte perché lui versa direttamente in tesoreria quindi non ho la fase prima dell'incasso e poi del versamento le due fasi sono distinte ripeto solo se esiste la figura dell'agente contabile l'agente contabile mettete oltre virgolette perché è una figura giuridicamente molto precisa e molto complessa l'agente contabile si divide l'agente contabile di diritto e di fatto come sanno i ragazzi come dovrebbero sapere i ragazzi che sono freschi di studio per il concorso e questa è la fa sono le fasi di entrata le fasi di entrata sono molto semplici fasi di spesa più complesse più 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 lunghe programmazione previsione autorizzatoria anche qui bilancio programmatico bilancio gestionale o piano esecutivo di gestione prenotazione dell'impegno prenotazione dell'impegno scrivetevi articolo 183 comma 3 del articolo 183 comma 3 del testo unico degli enti locali e principio contabile applicato allegato 42 della contabilità finanziaria che poi vedremo quindi il si parla col principio contabile come vi ho detto e siamo alla prenotazione impegno di spesa liquidazione di spesa o liquidabilità della spesa segnatevi tutti e due i concetti che poi dovremo vedere distinguere liquidazione della spesa o liquidabilità della spesa è il momento in cui l'impegno diventa esigibile scaduto e non vi devono essere più ostacoli alla sua monetizzazione liquidazione liquidazione o liquidabilità ordinazione emissione del mandato di pagamento sul tesoriere pagamento il ciclo di uscita è finito ciclo di entrata ciclo di uscita competenza cassa le competenze le abbiamo distinte in competenza finanziaria competenza economica competenza patrimoniale competenza monetaria la cassa riguarda la competenza monetaria la competenza finanziaria è quella che noi stiamo studiando adesso non studiamo in questo corso la accenniamo per completezza la competenza economica economica patrimoniale in dettaglio ok e questo è il perimetro e rispetto del principio quindi del pareggio non basta occorre rispettare l'equilibrio come vi ho detto l'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in serie di previsione cioè non solo in serie di bilancio ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio quando vi ho fatto l'esempio ci fermiamo oggi alle 11 54 del 13 ottobre fermiamo le macchine vediamo se la gestione del comune di genova è in equilibrio finanziario economico e patrimoniale e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettano nei rendiconti equilibrio di bilancio a noi interessa evidentemente soprattutto l'equilibrio di tipo finanziario cioè tra entrate uscite crediti debiti cassa cioè movimenti puramente finanziari nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica ricordatevi il concetto di sistema di bilancio che vi ho dato poc'anzi gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte cosa significa quest'ultima frase chi me la spiega un momento l'abbiamo già incontrata così vediamo se cominciate a capire i documenti pubblici di principio diretta o indiretta produzione diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione a che cosa pensa al principio quando fa questo passaggio forse che è l'attività del comune altre diciamo davvero un'attività istituzionale alcune volte opera anche tra virgolette a livello commerciale quindi non solo istituzionale quindi come ottiene dei ricavi da l'effettuazione di determinate attività anche attraverso presente delle società in house perfetto brava brava con tutte le altre forme di gestione dei servizi erogati possiamo andare delle istituzioni per i servizi sociali non so se il comune di genova abbia delle istituzioni per i servizi sociali di solito le istituzioni sono proprie dei servizi sociali abbiamo le società in house abbiamo le partecipate abbiamo le controllate sono tutte altre forme di abbiamo le cooperative del non profit e così via sono tutte altre forme di gestione che attuano il principio di sussidiarietà sia verticale sia soprattutto orizzontale cioè quando vado a utilizzare nel territorio altri soggetti che possono diventare miei interlocutori miei in senso di comune nella gestione dei servizi utilizzo delle associazioni che operano in materia culturale per gestire certi eventi in materia culturale sto facendo sto utilizzando le mie potenzialità in termini di sussidiarietà orizzontale cioè sul territorio la sussidiarietà è verticale quando invece proviene dall'attribuzione di funzioni dallo stato alle regioni agli enti locali il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio e ormai questo ve l'ho ripetuto alla nausea anche la realizzazione dell'equilibrio economico sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget e al preventivo economico per chi ce l'ha solamente soltanto certe società non certamente il comune sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio l'equilibrio economico che noi non andiamo a determinare contabilmente ma dobbiamo capire che cos'è e garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali e innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico cioè quello che più mi esprime la capacità di essere competitivo e innovativo per l'amministrazione pubblica quindi di avere un equilibrio tra costi ricavi proventi e oneri e di avere una capacità di patrimonializzare come vi ho detto nella prima riunione il territorio di competenza e lasciare alle amministrazioni future e alle generazioni future un patrimonio pubblico di provenienza dal comune di genova e dalle sue politiche che sia sempre migliorato e sempre implementato che la ricchezza disponibile per la comunità amministrata e fatta da scuole da asili nido da fognature da strade da edifici pubblici edifici a valore culturale e architettonico e così da attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani da mezzi di trasporto pubblico da scuolabus da tutta una realtà patrimoniale che si traduce in valore aggiunto o valore pubblico per la comunità di riferimento l'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale non è detto che se io sono in equilibrio sulle entrate sulle uscite questo lo capiremo meglio nel divenire delle lezioni sia anche in equilibrio economico e anche in equilibrio patrimoniale esempio io se contraggo debito per fare investimenti e lo posso contrarre solo per fare investimenti come voi ormai sapete io sono in equilibrio finanziario o la disponibilità del debito e ho la capacità di investimento ma se non sono in grado di sostenere patrimonialmente questo debito e anche economicamente patrimonialmente perché io ho una durata del piano di ammortamento superiore alla durata dell'utilità ceduta dal bene quello che era un equilibrio meramente finanziario non si traduce in un equilibrio patrimoniale non si traduce in un equilibrio economico può non tradursi in un equilibrio economico è chiaro questo passaggio è un pochettino più tortuoso è chiaro per tutti sì sì è chiaro dopo è scontato il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva analitica del pareggio economico finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata basta siamo al principio numero 16 quest'ultimo quarto d'ora che vi rubo ancora riguarda la competenza finanziaria questo è il cuore della questa volta lo introduco la prossima volta lo discutiamo insieme vi pregherei dunque la prossima volta è lunedì purtroppo quindi non voglio rovinarvi il sia lunedì no non voglio riparmi il weekend quindi non ripassate niente sono stati tranquilli però vedete cosa potete fare poi ci ritorniamo lunedì sì lunedì alle 9 e qui siamo al cuore della competenza finanziaria cioè siamo al principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata questo è il principio numero 16 principio generale che poi declineremo nel principio applicato allegato 4.2 il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione questo è il termine che dovete sottolineare agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive in termini di accertamenti per l'entrata e impegni per l'uscita vi ho già mandato nel materiale didattico il concetto di accertamento ed impegno di cui articoli 179 183 del tuel che dovete per cortesia vedermeli per cercare di studiarli in modo che poi a lezione io trovo un terreno più preparato anche per eventuali domande le parole chiave di queste due righe sono imputazione imputare agli esercizi finanziari cioè andare ad allocare finanziariamente proprio registrare è proprio la registrazione informatica un tempo si facevano a mano evidentemente queste registrazioni quando io entrai scusate questo riferimento personale ma nel 1974 come ragioniere capo e vinsi il concorso a la comune di savona poi nell 89 lo vinsi a genova al comune di genova ma non venni perché non avevo c'era non c'era la rilevanza economica in quanto le classi dei due comuni erano uguali e poi per ragioni varie ebbene avevamo la una contabilità ricalco una contabilità assolutamente quasi manuale voglio dire in cui andavamo a registrare e a imputare nei vari anni le varie avevamo un mastro cosiddetto registro mastro manuale eravamo nel 74 chiaramente no quindi capite quanti anni fa ora no ora abbiamo i sistemi informatici grazie a di abbiamo una informatizzazione potente però il concetto di imputazione rimane sempre lo stesso vuol dire andare ad allocare negli esercizi le entrate e le uscite in termini di accertamenti in termini di impegno questa imputazione che faccio agli esercizi cosa riguarda attenzione qui alla riforma riguarda solo obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive se non c'è l'obbligazione giuridicamente perfezionata non posso imputare nulla perché rimango ancora nella situazione previsionale cioè non sono passato alla fase di competenza giuridica la fase di competenza giuridica delle entrate e delle uscite nasce nel momento in cui sorge il sinalagma giuridico tra l'ente e un terzo esempio ha certo un'entrata per fitti attivi perché perché un contratto di affitto relativo ad un mio immobile dove c'è allocato un negozio o in affitto quell'immobile non è del patrimonio indisponibile perché se no qualcuno mi dirà che poi è concessione poi faremo la differenza è in affitto ho un canone accerto quel canone di affitto perché l'obbligazione è perfezionata attiva e la imputo all'esercizio come vedremo tra poco dove quella entrata scade ed è esigibile obbligazione passiva io stipulo un contratto di appalto per la manutenzione ordinaria delle strade ordinaria spesa corrente il contratto è triennale vado a imputare nell'esercizio 2022 nel 23 nel 24 in base al crono programma segnatevi crono programma contrattuale di cui dispongo e devo disporre quali sono le obbligazioni passive che impegno e che scadranno nel 22 quali nel 23 quali nel 24 cioè in sostanza la ditta che si aggiudica l'appalto quanta manutenzione di strade farà nel 22 nel 23 e nel 24 e quante obbligazioni giuridicamente passive sinalagoma rapporto giuridico attivo per l'impresa passivo per l'ente locale nasceranno negli anni 22 23 e 24 ecco soltanto quando io perfeziono l'obbligazione posso imputare all'esercizio finanziario non possono esistere più come esistevano nell'ordinamento precedente voi siete tutti giovani quindi non l'avete vissuto potreste che ci sia qualcuno che c'era prima del 2015 ma non credono lo so come lo direte e che quindi ha vissuto anche il vecchio ordinamento dove noi potevamo imputare soprattutto in uscita anche obbligazioni non perfezionate oggi l'armonizzazione contabile mi chiede tassativamente di imputare secondo il principio della competenza finanziaria che in dottrina è stato chiamato per la competenza finanziaria potenziata o rafforzata proprio per quello che vi sto dicendo perché l'abbiamo rafforzata e potenziata quando abbiamo chiesto che la competenza finanziaria sia sorretta da obbligazioni perfezionate cioè dove i giuristi trovano il sinalagma tra il soggetto pubblico l'ente locale e il terzo che tra l'altro quando firmano il contratto come mi insegnano i giuristi si pongono in una situazione di parità contrattuale l'ente si spoglia della sua potere autoritativo che ha mantenuto nel procedimento ex ante che ha portato al contratto firma il contratto e gestisce poi il contratto di manutenzione delle strade procedimento ex ante contratto procedimento ex post gestione del contratto non c'è un contratto è un contributo a terzi è un contributo ad una cooperativa non profit non cambia niente il contributo non prevede un sinalagma giuridico nel senso che la cooperativa non deve darmi in contropartita qualcosa quindi è veramente un trasferimento di risorse concetto di trasferimento unilaterale concetto di trasferimento tutto al più mi può fare un rendiconto se glielo chiedo erogo questo trasferimento imputo questo trasferimento all'esercizio finanziario in cui adotterò la determinazione di impegno di questo trasferimento alla cooperativa non profit del fino ed è una situazione giuridica diversa dalla situazione contrattuale ma l'obbligazione è sempre perfezionata una è perfezionata con un sinalagma e con un rapporto l'altra è perfezionata unilaterale a carico dell'ente locale perché è un trasferimento e come tale non prevede una diretta contropartita siamo entrati nel vivo della competenza finanziaria potenziata che è il criterio che sorregge tutta l'armonizzazione della contabilità pubblica tolgo la condivisione perché voglio vedervi un momentino in faccia ecco se mi aprite un po di siamo in 26 ecco bravi se mi aprite un po di meno male perché sennò qui sembra di parlare a veramente al nulla ci siamo stiamo facendo un percorso logico che vi vede seguire un ragionamento e una riflessione vedete che stiamo man mano maturando passaggi successivi oggi ci hanno portato già a entrare nel merito del concetto di accertamento del concetto di impegno su questo concetto della competenza rafforzata e adesso chiamo in casa qualcuno io area tecnica ecco vedo un'area tecnica non vedo cognome nome della dottoressa dottoressa può dirmi la sua la sua impressione allora su questo concetto di competenza rafforzata è chiaro buongiorno dottoressa grazie sicuramente questo ha ha portato a un a una maggiore precisione dei bilanci pubblici perché comunque non essendoci prima del 2015 queste questi principi sicuramente i bilanci erano un po meno precisi e questo sicuramente infatti era una domanda perché volevo farle brava cosa ha portato poi in questi anni a migliorare nella nella contabilità pubblica questi l'applicazione di questi principi lei che magari ha un quadro molto ampio della ma guardi proprio ieri noi abbiamo visto abbiamo visto nella commissione arconet le date interessanti e ci vorrebbe tempo di poterli vedere con voi sulla bid up cioè sulla banca dati delle amministrazioni pubbliche che riguardano l'invio dei conti costruttivi e dei bilanci da parte tutta l'amministrazione pubblica tanto abbiamo preso atto del fatto che c'è un adempimento molto diffuso cioè gli enti in adempienti si stanno veramente riducendo a pochi quindi questo è un grande risultato un primo risultato che noi abbiamo ottenuto è quello della diminuzione dei residui attivi dei residui passivi cioè il calo delle partite che rimangono a residuo soprattutto evidentemente negli enti che hanno poi una capacità di pagamento e di riscossione alte chiaro ma una grossa caduta dei residui passivi puramente contabili che non esistono più come voi ben sapete e come abbiamo imparato oggi una grossa revisione dei residui attivi e quindi un ridimensionamento della situazione creditoria e debitoria sempre negli enti in sana gestione chiaramente perché l'ente che presenta delle crisi finanziarie chiaramente mi ha dei residui attivi molto alti perché non è capace a riscuotere e siccome non è capace a riscuotere poi non è capace nemmeno pagare no questo per dire che poi la rilevanza di questa contabilità ha portato in evidenza anche le grandi criticità finanziarie degli enti questo è l'altro tema cioè rendendo maggiormente veritieri rendi conti ha messo in evidenza lente sano lente poco malato da tachipirina lente malato da antibiotici lente che è in intensiva capite e cioè abbiamo siamo riusciti a dominare e a governare riusciamo a dominare a governare le situazioni di criticità di questi enti tenga conto dottoressa che la sua domanda di particolare interesse perché mette in evidenza anche che noi poi molti enti questo principio della competenza rafforzata non creda non crediate che lo utilizzino al meglio cioè lo applicano ancora come vedremo con grandi scostamente rispetto alle regole per cui la non veridicità dei rendiconti e dei bilanci è ancora piuttosto diffusa purtroppo da un punto di vista finanziario però abbiamo portato a casa risultati estremamente notevoli ma soprattutto abbiamo portato a casa il fatto che adesso a livello centrale abbiamo una mole di dati talmente ricca di tutti i comuni di tutte le province di tutte le regioni di tutte le società a livello di banca dati delle amministrazioni pubbliche ci permette e permette al governo di avere una visione unitaria e completa della finanza pubblica italiana un'importante evoluzione sicuramente assolutamente una grandissima una grandissima evoluzione che ancora in corso perché non è una battaglia che abbiamo vinto completamente perché le sto dicendo che abbiamo delle grandi criticità anche applicative della della riforma ancora e lo dimostra al fatto che ogni mese noi ci dobbiamo rivedere in commissione arconet ci siamo visti ieri adesso ci vedremo tra un mese e ci vedremo ancora prima di natale eccetera perché dobbiamo continuare a manutenere questa riforma e a vedere come va e tenga conto che la riforma è partita come lei sa dal 2015 quindi siamo siamo questo grazie della domanda dottoressa grazie a lei bene io non voglio stancarvi ulteriormente vi ringrazio anche della partecipazione vedo che man mano che andiamo avanti prendiamo sempre più anche confidenza nella partecipazione quindi di questo vi ringrazio gli appunti spero che siate riusciti a prendere in ogni caso la cosa registrata quindi vi saluto e ci vediamo alla prossimo al prossimo incontro grazie a tutti buona giornata grazie arrivederci buona giornata